Buongiorno a voi che è a tutti, sono Pestafrono 94, sto giocando a Pk4 insieme a Flavio eccetera 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 adesso cerchiamo di conquistare una fortezza senza farci scoprire il guido, il copp, ah io sto a posire il cassone, varshaco, che è il nome di me eccoci qua siamo arrivati alle fortezze direi di salire su questa roccia gigante adesso ci diamo tutti i porchetti no seriamente io mi sono impiccato per salire su questa roccia la prima volta che l'ho fatto qua io sono più potente ah no sei proprio tu che gioca a 93? sono sniper elite no io ho un altro che è... ci sono le scane? è un'altra roccia gigante da dove iniziamo? guarda i sentinelli? troppo io con la sinistra prendo questo qua a destra devo tirare dei due cerchini perché non riesco a vedere il resto secondo ora ok quando vuoi ora quello per la finestra fatto ce l'hanno scoperti ok il pesante bene ok cliccare? eh vabbè non fa niente adesso questa utilizza l'aniotertica vieni qua io ti ho mazzo io ti ho mazzo ci sono agamati ci sta subito nella mischia prendetelo e manda a puttana nell'aniotertico stiamo arrivando lì eh stiamo arrivando in volo stiamo arrivando in volo eccolo la ho preso il pilota siamo arrivando in volo gli amici abbiamo andato a puttano l'anicoottero siamo arrivati in volo io uno lo distrutto siamo arrivati in volo io mi restrucco di allarmi eh manca gli dicotteri adesso ahia aprono domani l'anicoottero due tu hai due no è mancato siamo arrivati in volo ma che arma ma ma fronf2 muori 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 anzi con una freccia l'ho tirato io madonna nooo mi vanno la presa? dai flori strombolo muoio perché poi c'è qualcosa che non va merda come Urk è morto? cazzarola Urk è morto è morto ma tu vuoi dove sei? noo ma tu vuoi trovare? sono morto proprio ok Urk è rientrato ma che secondo sono di nuovo in campo vai lì fuori aiuto ne sono morto aiutami razzanti ho fatto il granadiere arrivi 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 aiutami sei un percentente di merda un ricoterista fattilo aspetta che killo il ricoterista perchè mi ha veramente stupato mi siamo pagato nella vita mi siamo pagato nella vita bello non potete sbatturare non potete sbatturare mi ha sbatturato ah già mi ha sbatturato devo rifornire non potete sbatturare ma c'è un altro ricottero sì avevo acquistato Marciacotto le ho tirate in faccia a cui mi guidava sì un po' di fatica ma ci abbiamo fatto un po' di casino la prossima non sarà così da Pestaflora 94 questo è tutto andrà tutto bene Zabal se n'è andato tu sei salva basta Tarumatara riportala al campo non so dove sia Zabal e non mi fido di lui che succede con Zabal? non ora abbiamo problemi più grandi non so dove sia non so dove sia non so dove sia non so dove sia